salve a tutti dice ma sempre tabacchi seri recensisce sempre tabacchi di quelli così no non solo quelli le ultime due recensioni erano due cose da pormono vero che uno era un tabaccoso da pormono quindi la vergogna più assoluta ma si può essere ancora più vergognosi svapisticamente parla svapisticamente che vuol dire walter scusa si può essere più vergognosi sì perché oggi vorrei recensire di marca marca ornifava questa bellissima marca ornifava orni strawberry la fragola arrapata va bene ora io a parte tabacchi di qualità sono un amante dei liquidi fruttati ghiacciati mi piacciono è praticamente si può dire l'unica cosa che sbapo di pormone tranne pochissime creme e questi della linea ornifava sono dei malesiani che non mi dispiacciono assolutamente ho provato l'orni ninchio l'orni pom berri l'orni pin berri l'orni che cazzo ne so salvatore berri tutti finiscono con berri e tutte queste cose mi mancavano mi mancavano l'orni strawberry che è questo qua fragola e me ne manca un altro che è l'orni che è quello con l'ananasso solo l'ananasso mi pare orni ananasso si chiama comunque facciamo la prova di sbapo le considerazioni finali ah le cose che piacciono a voi pervertite dello sbapo ho fatto sto sbapando sul droga ho fatto 5 spire 2 coil da 5 spire va bene di necrom 80 punta da 3 necrom 24 gauge mi è uscito fuori una 0 di 18 lo sto sbapando a 80 watt ora ci sono c'è la parte che vi piace a voi non so neanche come definirvi a voi a cattoni no a voi saltimbanchi dello sbapo allora io sono abituato ai liquidi ghiacciati di ghiacciato dovrebbe essere ghiacciato anche se ormai quasi non lo sento il ghiaccio il sapore il sapore secondo me non ci siamo rispetto agli altri orni fava perché è una specie di fragola boh per me non è una fragola soddisfacente no non è un granchè questo orni strawberry peccato perché l'ornimango è potente pure l'ornipomberry come cazzo si dice questo qua orni strawberry no niente che cazzo è un liquido da pederasti ma che cazzo sbapate ma vergognatevi vergogniamoci e ok